Ho preparato uova per tutti voi, ma è impossibile, siete in troppi, tantissimi, però qualche uova ce l'abbiamo, era per farvi un po' di auguri di buona Pasqua, oh è questo, è questo per me, guarda che uofone, fai il primo piano, fai il primo piano su dove vuole, bellissimo, ma che bello, bene, buona Pasqua a tutti, a tutti, 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 lo dice anche lei, a tutti, tutti, tutti. Buona Pasqua a te, curiosone.